sono bartolomeo garelli all'età di 16 anni esattamente l'otto dicembre 1841 ho incontrato don giovanni bosco poco prima ero stato male accolto dal sacrestano della chiesa perché non sapevo servire bene la messa don bosco mi ha chiamato dicendo al sacrestano è un mio amico ha iniziato così ad interrogarmi con una raffica di domande come ti chiami di dove sei don bosco voleva conoscermi e capire quale fosse la mia situazione io ho risposto che ero orfano di entrambi i genitori originario di asti e lavoravo come muratore a quel punto però iniziava la parte più difficile sai leggere sai scrivere risposi non so niente sai cantare risposi no mi sentivo a disagio perché stavano emergendo tutti i miei limiti e la mia profonda convinzione di non essere buona a nulla ad un tratto don bosco mi chiese sai fischiare mi mise a ridere era scontato che sapessi fischiare diamine quale muratore non sa farlo don bosco mi guardò con tenerezza e mi sentì amato come non mi era successo mai prima di allora capì che anche le mie povertà in mano a don bosco avevano una strada a distanza di anni mi rivelarono che da quella domanda nacque l'oratorio di san giovanni bosco mi dicono che sono stato il primo piccolo oratoriano bisognoso di ricominciare sul piano spirituale tutto da capo a partire dal reimparare a fare il segno di croce la domanda di don bosco quel sai fischiare ha assunto una valenza speciale non è una frasetta buttata casualmente nel discorso è il frutto di una ricerca accurata l'esperiente di un educatore che riesce a scavare anche fra le cose apparentemente più banali della vita grazie a tutti